Prosegue in provincia di Teramo la campagna di vaccinazione anti-covid dedicata agli over 80. A Martinsicuro, dopo ieri e oggi, continuerà anche per la giornata di domani la somministrazione delle dosi di vaccino. Sono oltre 500 infatti gli anziani a 20 diritto che ne hanno fatto richiesta. Circa 180 le vaccinazioni previste ogni giorno nel Palasport Leone della città truentina. Il lavoro è intenso ma è molto importante. Inizia una fase fondamentale per uscire da questa situazione che dura da troppo tempo e sta provando tutti quanti. E quindi è importante partire dalla categoria più deboli, i nostri anziani. E qui stiamo sollecitando tutti quanti, anche quelli che non si sono segnati nella piattaforma, a prenotarsi e quindi a sfruttare queste tre giornate. Chiaramente ce ne saranno molte altre. Ci stiamo organizzando un lavoro importante con la protezione civile per cercare di dare un supporto per un'attività molto importante. L'obiettivo è quello di arrivare a più di 500 vaccini? Sì, insomma, anche questi sono quelli che si sono segnati e hanno fatto la valutazione sulla piattaforma. Puntiamo anche a superare questo numero perché in questi ultimi giorni poi ci sono state tante persone che non erano segnate, che però hanno manifestato l'interesse ad essere vaccinati. Quindi contiamo di superare quella soglia. Un ringraziamento che va fatto a tutta la squadra che è riuscita a mettere su? Assolutamente sì. La protezione civile, Croceverde, con l'enorme lavoro, l'Asli Terra che ci sta supportando. È importante far capire l'importanza di questa attività e far capire anche le persone che gli chiediamo pochissimo tempo però di venire qui e in pochissimo tempo riescono a vaccinarsi. Quindi, insomma, un servizio che sta funzionando bene e quindi speriamo, tra l'altro, un servizio che dovremo organizzare anche successivamente quando ci sarà un po' la vaccinazione di massa e quindi stiamo un po' provando anche quello che sarà, insomma, quando avremo molte più persone che si dovranno vaccinare.